Ciao ragazzi, sono appena tornato a scuola e ho appena finito di mangiare e come sapete ho avuto due compiti, quello di chimica e quello di latino come ho detto ieri e sono andati discretamente bene e adesso ero qui che stavo cominciando a montare il video però devo farlo velocemente, il video di oggi perchè ieri non l'ho fatto in tempo quindi adesso cercherò di montarlo al volo e pubblicarlo su youtube mentre alle 3.20 viene quello che mi dà ripetizioni e qui sarò impagnando per circa 1.30 e poi dovrò studiare storia perchè domani ho il compito di storia, una trattazione breve e poi questa sera la festa di 18 anni, come ho detto ieri che ho fatto vedere e ho comprato appunto i miei vestiti per questa serata quindi ci vediamo dopo, adesso comincio a montare il video allora, ho appena finito di studiare e ho finito un po' le ripetizioni prima verso le 4.30 e adesso che sono le 6 passate sto andando l'ultima ripassata a storia scusate se vedete effetto porno anni 90 un po' sgrado ma è sera e questa macchinetta è stata distrutta da mia sorella e quindi non riprende molto bene infatti dovrò fare un nuovo acquisto non so se compriamo una gopro o un'altra macchinetta per fare questi vlog comunque, fra un po' mi trovo a vestire comunque perchè alle 8 devo essere lì per la festa intanto guardiamo cosa c'è fuori il nulla si, giusto questa inquadratura molto io fuori c'è bruttissimo tempo e... nada guardate il casino che c'è perennemente dentro questa camera libri ovunque ovunque va bene, sto un attimo gioco pagando su... su facebook e sul mio canale ve li avevo caricati appena il secondo video grazie a tutti 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 grazie a tutti